Oggi chiediamo a Dio Padre che ci insegni ad ascoltare Gesù e a guardare Gesù. È il messaggio che Papa Francesco ha lasciato ai fedeli della parrocchia di Santa Maria dell'Orazione di Setteville e di Guidonia, ad una ventina di chilometri da Roma, la quinta visitata in diocesi dall'inizio del pontificato. Il primo compito del cristiano è ascoltare la parola di Dio, ascoltare Gesù, che Lui ci parla e Lui ci salva con la Sua parola. E anche Lui fa più robusta, più forte la nostra fede con quella parola. Tante cose ascoltiamo noi durante la giornata, tante cose. Ma vi faccio una domanda. Prendiamo un po' di tempo ogni giorno per ascoltare Gesù, per ascoltare la parola di Gesù. A cassa noi abbiamo il Vangelo e ogni giorno ascoltiamo Gesù nel Vangelo. Il suggerimento di Papa Francesco è lo stesso dato poche ore prima all'Angelus. Portare con sé un piccolo Vangelo da tenere in tasca o nella borsa e leggere due paroline. Nella sua trasfigurazione, ha detto poi il Pontefice, Gesù ci invita a guardarlo per purificare i nostri occhi e prepararli alla vita eterna, alla visione del cielo. Perché forse i nostri occhi sono un po' ammalati, perché vediamo tante cose che non sono di Gesù, anche sono contro Gesù, cose mondane, cose che non fanno bene alla luce dell'anima. Prima della messa il Papa ha incontrato nei locali della parrocchia i bambini e i ragazzi delle prime comunioni e delle cresime, poi gli anziani, disabili e le comunità neocatecumenali. Prendere alcuni minuti.